siamo in provincia di rovigo il treno sta viaggiando parallelo al po sullo sfondo si vedono i colli uganei appena appena il profilo scuro di questi rilievi che raggiungono i 600 metri con il monte della madonna e a momento la curva che porterà a invoccare il ponte sul fiume eccolo occhio bello è l'ultima stazione del colesimo appena prima del ponte che porta in provincia di ferrara un paesello la chiesa parrocchiale dopo le colene del po passiamo a ferrara ciao 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 ciao